Apriamo la nostra seduta di oggi, la pubblicità dei nostri lavori è garantita anche dalla diretta sulla web tv. Ringrazio il Ministro Lotti per essere con noi stamattina e rammento a tutti che vi è un minuto per ciascun interrogante per l'esposizione. Il Ministro poi ha tre minuti per la risposta e l'interrogante ha due minuti per la replica. Invito quindi colleghi ad attenersi ai tempi stabiliti che comunque verranno amministrati con la dovuta flessibilità data l'importanza degli argomenti che stiamo trattando. Passiamo quindi alla prima interrogazione Borghesi sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping. Chiedo al collega Borghesi di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. In maniera molto rapida, in data 31.5.2017 la giunta del CONI ha effettuato le nomine del Presidente del Tribunale Nazionale Antidoping, della Procura Nazionale Antidoping e del Comitato Controlli Antidoping della Nado Italia, che ha responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità del Codice Mondiale Antidoping. Non ci risulta che per questi predetti ruoli così importanti siano state richieste manifestazioni di interesse per eventuali candidati. Inoltre risulta che il nuovo Procuratore Nazionale Antidoping provenga addirittura dal TNA stesso, dove è stato componente della prima sezione per alcuni mesi. Quindi si sono verificate tutta una serie di situazioni per le quali chiediamo al Ministro quali iniziative intenda intraprendere affinché sia ripristinato il corretto svolgimento delle nomine riguardanti dei componenti della giustizia antidoping che è così importante per il nostro Paese. Grazie Onorevole Borghesi. Ministro. Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito della risposta che concerne appunto la nomina legata alla Nado Italia, che è l'organismo italiano che, lo ricordo, è preposto alla prevenzione e alla repressione per l'uso di sostanze dopanti nello sport, credo sia necessaria una breve premessa che mi porterà via solo 30 secondi. Ricordo che l'ordinamento sportivo internazionale riconosce la VADA come l'organismo internazionale di governo e di riferimento in materia di lotta al doping e che esso ha adottato un codice, conosciuto come codice mondiale antidoping, che deve essere obbligatoriamente adottato dai comitati olimpici di tutti i membri, i Paesi membri del CIO, appena esclusione delle Olimpiadi. Con la legge 230 del 2007, il nostro Paese, al fine di uniformarsi appunto ai principi salciti dal Codice Mondiale Antidoping, ha poi ratificato una Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, impegnandosi, tra le altre cose, a istituire un organo nazionale antidoping indipendente di derivazione funzionale dall'Agenzia Mondiale Antidoping. La Nado Italia, appunto, costituisce l'organismo indipendente richiesto da questa Convenzione Internazionale, alla quale compete una responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme del cosiddetto Codice Mondiale Antidoping. Venendo al merito dell'interrogazione, vorrei far presente all'On. Borghesi che le disposizioni contenute nella legge 15 del 2004, che è quella alla quale si fa riferimento nella sua interrogazione, a maggior ragione quelle contenute nel Codice di giustizia sportiva, non possono trovare applicazione con riferimento agli organi che operano nell'ambito della Nado Italia. Diversamente, le procedure di nomina della Procura Nazionale Antidoping, del Tribunale Nazionale Antidoping, del Comitato Controlli Antidoping e del Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici sono contenute nel disciplinare organizzazione e funzionamento della Nado Italia, approvato dalla Giunta del CONI. È questo che definisce il disciplinare e l'organizzazione della nomina. I soggetti nominati devono essere, ovviamente, cito tra virgolette, professionisti di chiara fama, esperti in materie giuridiche e o tecnico-scientifici. In influente, per come la penso io ovviamente, appare la circostanza che il nuovo Presidente nazionale provenga dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il passaggio dalla funzione inquirente a quella requirente è ammesso dal nostro ordinamento, fino anche ai magistrati ordinari. Si potrebbe aprire qui una discussione sul ruolo dei magistrati, ma non credo sia opportuno. Sarebbe del tutto singolare, sinceramente e personalmente, vietarlo nella giustizia sportiva. Grazie. Grazie Ministro. Onorevole Borghesi, due minuti per la sua replica. Sì, io ringrazio il Ministro per la risposta, anche se ovviamente non possiamo ritenerci soddisfatti, anche perché tra le righe il Ministro riconosce che le problematiche da noi sollevate ci sono, anche se non sono ritenute, diciamo così, degne di nota o comunque degne di essere affrontate. Dal nostro punto di vista riteniamo che la situazione che si è venuta a creare meriterebbe una forte attenzione, anche perché nomine così delicate e in settori così delicati dovrebbero essere fatte con dei criteri assolutamente diversi. Ci dispiace che tramite questa risposta, in maniera implicita, vengano confermate le criticità che abbiamo sottoposto nell'interrogazione e che quindi pare non ci sia la volontà del Governo di intervenire in maniera concreta per evitare che questa situazione venga modificata. Grazie Onorevole Borghesi. Passiamo alla seconda delle interrogazioni, a firma Coscia, sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche. So che illustrerà l'interrogazione l'Onorevole Coccia. Grazie Presidente, questa è una questione molto delicata perché sono stimate circa in 50.000 le morti l'anno per arresto cardiaco immediato di cui circa 1.000 riguardano persone under 35 e di questi 50.000 casi si stima che un quarto potrebbero essere evitate con l'uso tempestivo di un defibrillatore. Ed è per questo che nel 2012 il decreto Balduzzi aveva previsto l'obbligo per le società sportive. Questo obbligo è stato più volte prorogato e negli ultimi giorni alcune agenzie di stampa hanno battuto la notizia di un decreto ministeriale che dovrebbe mettere fine alle proroghe. Volevamo sapere, questo chiediamo, se questa notizia corrisponde a vero e che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Grazie. Grazie Onorevole Coccia. Ministro. Il decreto al quale fanno riferimento i colleghi del Partito Demoratico è un decreto che ho approvato di concerto con il Ministro della Salute che è in attesa di pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale e pone fine alle proroghe all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche che venne introdotto appunto con l'articolo 7,11 del decreto legge 158 del 2012 ricordato anche dall'interrogante. Era uno degli impegni che ci eravamo presi nell'illustrazione delle linee programmatiche in Senato e prevede un duplice obbligo. In primo luogo impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata. L'impianto sportivo non potrà essere utilizzato né per le gare né per gli allenamenti. In secondo luogo obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare. Questi obblighi gravano in carico a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal CONI. Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo. Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o le associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio il cui elenco è contenuto in un allegato, l'allegato A del decreto a titolo esemplificativo cito il bullying, le bocce, la dama, le freccette per citarne alcuni ma poi nell'allegato il troverete nel decreto saranno specificati tutti. Dopo aver illustrato il decreto ci tengo a far presente che l'approvazione di questo decreto oltre a essere una promessa che avevamo preso e che abbiamo mantenuto rappresenta una tappa di un percorso un po' più ambizioso. Sono infatti già allo studio una serie di protocolli per prevedere l'obbligo di formazione all'uso dei defibrillatori a carico degli allenatori per esempio e degli arbitri. L'obiettivo finale è quello di garantire non soltanto l'assistenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo ma anche quella di assicurare che dove si pratica un'attività sportiva ci sia sempre una persona debitamente informata a poterlo utilizzare in qualsiasi momento. Grazie. Grazie Ministro. Replica l'Onorevole Coccia, vero? Prego. Sì, io mi dichiaro soddisfatta perché questa risposta conferma ancora una volta l'attenzione del Governo non solo a tutto il mondo dello sport a 360 gradi ma anche alla prevenzione e all'attenzione alla salute pubblica perché appunto purtroppo queste sono situazioni che arrivano alla ribalta dell'opinione pubblica quando c'è una morte eclatante in campo ma in realtà come dicevo prima è un fenomeno molto più diffuso di quanto non si conosca e quindi è importante non solo fare prevenzione ma anche fare cultura da questo punto di vista per far sì che tutti possano essere formati a affrontare delle situazioni che possono essere improvvise e appunto letali. Grazie. Grazie Onorevole Coccia passiamo all'interrogazione dell'Onorevole Simone Valente sull'elezione a Presidente di Federazioni Sportive Nazionali di soggetti che hanno riportato condanne chiedo al collega di illustrare la sua interrogazione prego Onorevole Valente Grazie Presidente l'Aeroclub d'Italia è una federazione sportiva del CONI e insomma svolge diverse attività appunto per quanto riguarda i brevetti il pilotaggio, l'omogazione di gare, di record emanazione di regolamenti sportivi come riportato da un quotidiano qualche giorno fa nonostante il Presidente uscente Giuseppe Leoni sia stato rieletto continua a rimanere in carica nonostante la condanna a tre anni per peculato ovviamente è un caso che si porta avanti da parecchio tempo e anche gli associati testimoniano diverse preoccupazioni e diverse perplessità su questo incarico e le perplessità nascono anche dal fatto che secondo sempre l'articolo che io ho riportato all'interrogazione si configurerebbe una modifica statutaria che permetterebbe al Presidente di rimanere in carica quindi chiediamo con due quesiti se il Governo intenda introdurre nel sistema sportivo delle norme per evitare che i Presidenti federali condannati possano rimanere in carica e in secondo luogo quali misure intende adottare in riferimento ai fatti che ho esposto in premessa grazie grazie onorevole Valente Ministro grazie Presidente prima di rispondere nel merito al collega Valente che sottopone alla mia attenzione la nomina appunto di Giuseppe Leoni alla carica del Presidente Euroclub Italia vorrei fare una precisazione anche qui di 30 secondi vorrei far presente infatti al collega interrogante che con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013 numero 53 è stato approvato il nuovo statuto dell'Aeroclub Italia che lo definisce ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo ai sensi dell'articolo 26 del nuovo statuto per questo la premessa dell'Aeroclub Italia il Presidente è nominato con un DPCM su designazione dell'Assemblea federale questo significa che l'Assemblea può solo designare il Presidente della Federazione mentre la nomina spetta formalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri che vi provvede con suo apposito decreto abbiamo discusso anche di questo parlando nell'ultima seduta alla quale ho partecipato in merito al rinnovo dei mandati non solo lo stesso articolo 26 del nuovo statuto dell'Aeroclub conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 14 1978 per tutti i Presidenti e Vice Presidenti di istituti ed enti pubblici stabilisce che il Presidente non possa essere nominato per più di tre mandati consecutivi infatti signor Leoni sebbene sia stato nuovamente designato dall'Assemblea federale per ricoprire la carica di Presidente dell'Aeroclub Italia nel prossimo quadriennio non è stato nominato con apposito DPCM venendo al merito finita la premessa dell'interrogazione occorre in primo luogo fare un riferimento alla delibera dell'ANAC del 15 marzo scorso infatti l'autorità garante in materia di anticorruzione interrogata sul punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha il concetto insieme al Ministero dello Sport ha ritenuto che al signor Leoni non fossero applicabili i decreti attuativi della legge Severino in punto di incompatibilità in quanto il Presidente dell'Aeroclub svolge funzioni di rappresentanza prive di poteri di gestione allegherò alla risposta anche il parere ANAC qualora non fosse arrivato al contrario invece l'ANAC ha ritenuto applicabile al signor Leoni l'articolo 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza di una condanna anche con sentenza non passata in giudicato preso atto della delibera ANAC la Giunta Nazionale del CONI nella seduta del 31 maggio 2017 ha deliberato vista la sentenza di condanna del Tribunale di Roma alla pena di tre anni di reclusione la sospensione da ogni funzione all'interno degli organi del CONI e del Presidente dell'Aeroclub Italia sul piano federale l'organo deputato a procedere alla sospensione cautelare del Presidente ai sensi dell'articolo 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI sarebbe il Comitato Etico dell'Aeroclub Italia dalle informazioni che ho potuto raccogliere risulta che tale Comitato Etico non si fosse mai formalmente insediato e che la sua costituzione sia avvenuta solamente a seguito di forti pressioni da parte del CONI nella mia qualità di Ministro per lo Sport mi impegno infatti e quindi a monitorare la situazione al fine di assicurarmi la piena adesione di tutte le parti coinvolte alla delibera dell'ANA che impone la sospensione del Presidente designato dalla sua carica ma lo voglio ricordare non nominato con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri Grazie Grazie Ministro Onorevole Valente due minuti per la sua replica Sì non è il primo la prima interrogazione che il mio gruppo fa riguardo a Presidenti Federali che hanno subito condanne perché pensiamo che sia questo un nodo da sciogliere infatti abbiamo presentato anche ammendamenti su proposte di legge per impedire che Presidenti Federali con condanne continuino a rimanere in carica primo perché non sembra ovviamente eticamente corretto poi anche non sembra che sia un esempio per tutti quegli associati e soprattutto quei giovani che praticano sport o che fanno comunque attività legata al CONI io devo dire che sono particolarmente soddisfatto perché non ho ricevuto risposta su insomma quali se ha intenzione il Governo di introdurre degli strumenti anche normativi per evitare che Presidenti Federali con condanne rimangano in carica e anche riguardo alle modifiche statutarie che il Presidente Leoni avrebbe in mente non è stata data risposta ma forse perché il Governo non ha le dovute informazioni quello che dico è che semplicemente non scopriamo oggi che il Presidente Leoni ha subito delle condanne e continua a rimanere in carica lo sappiamo ormai da tempo e quindi io penso che il CONI anche in questo caso abbia semplicemente preso un po' troppo tempo per avviare i giusti provvedimenti in tutte le sedi per far sì che non venga che non potesse più esercitare il proprio potere il Presidente dei Leoni questo è un caso che comunque testimonia come in realtà spesso quando succedono alcuni casi di questo tipo ci si volti dall'altra parte invece di prendere provvedimenti immediati questo non fa bene al sistema sportivo non fa bene soprattutto a chi guarda dall'esterno che pratica sport ogni giorno che ormai vede le federazioni e anche il CONI con una totale negatività che non fa bene ripeto tutto il mondo sportivo in primis alle istituzioni che vengono rappresentate grazie grazie onorevole Valente passiamo all'ultima delle interrogazioni a firma Nicchi ma cofirmata anche dall'onorevole Fossati sui certificati medici per l'attività ludico-motoria organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche chiedo all'onorevole Fossati appunto cofirmatario di illustrarla volevamo chiedere al Ministro se erano stati fatti dei passi avanti in seguito alla risoluzione approvata in Commissione Sanità ormai un annetto e mezzo fa che tentava di indicare al Governo il Governo era stato favorevole alla risoluzione qualche strada per sanare un vulnus presente dal 2013 dal momento in cui uscì il decreto attuativo della legge Balduzzi decreto che stabilisce in modo molto puntuale purtroppo che per le associazioni sportive dilettantistiche è possibile svolgere un'attività agonistica o non agonistica questo significa che un'associazione sportiva dilettantistica non anche se fa perché nella realtà delle associazioni sportive dilettantistiche all'80-90% si fanno attività ludicomotorie però non è possibile classificarle in questo modo il che significa che le associazioni sportive dilettantistiche qualsiasi tipo di attività facciano devono sottoporlo a un regime di certificazione medica che è quello dell'attività non agonistica mentre le associazioni di qualsiasi altro tipo o privati o privati for profit se definiscono un'attività come ludicomotoria hanno il regime previsto dalla legge e da circolari interpretative che si sono succedute negli anni successivi a luglio 2013 che descrivono sostanzialmente un'assenza di certificato e questo è ragionevole dato il carattere di passo impegno cardiovascolare dell'attività stessa questa era la domanda c'è una commissione che lavora da ormai due o tre anni ma non è dato sapere se questa commissione è arrivata a un qualche punto definitivo o no grazie onorevole Fossati grazie onorevole Fossati ministro la questione posta dal collega Fossati come nelle prime parole trova la sua disciplina nell'articolo 2 del decreto del ministro della salute del 24 aprile 2013 appunto pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20 luglio 2013 cosiddetto decreto Balduzzi si legge in particolare nella disposizione che ho citato e che ha citato l'interrogante che tutti coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità dell'attività ludico-motoria tale certificato deve poi essere esibito all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività sportiva e deve essere conservato in tale sedi in copia fino alla data della validità o fino alla cessazione dell'attività intesa venendo al quesito questo per la premessa è per spiegare qual è il contesto del quale stiamo parlando venendo al quesito mi preme in primo luogo sottolineare come la disciplina contenuta nel decreto ministeriale al quale ho fatto riferimento non distingue a seconda del soggetto che organizza l'attività sportiva ma riguardo esclusivamente al tipo di attività che si svolge infatti sono esclusi dall'obbligo di certificazione elenco coloro i quali effettino l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato e autorizzato chi svolge anche in contesti autorizzati organizzativi attività motoria occasionale effettuata a scopo prevalentemente ritreativo e in modo saltuario e non ripetitivo e i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare come ricordato dall'onorevole Fossati la ragione di tale esclusione è evidente l'obbligo di certificazione attestante di unità ludico-motori si giustifica in quanto un soggetto pratica l'attività sportiva in un contesto organizzato e con una certa continuità laddove manchino questi requisiti non ha senso imporre l'obbligo di certificazione io su questo condivido non ero al corrente della risoluzione onorevole quindi prendo in considerazione il fatto che esiste questa commissione presso il ministero della sanità e mi faccio carico di chiedere informazioni sulla risoluzione approvata penso però che lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini di sottoporsi a controlli medici costanti raccomandazione che peraltro vale per tutti gli ambiti della vita quotidiana anche al di fuori dello sport infatti il decreto ministeriale che disciplina questa materia raccomanda ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione di sottoporsi comunque ad un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica o che si sottopongono ad un esercizio fisico di particolare intensità grazie 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 ministro due minuti onorevole Fossati capisco che c'è un po' di asimmetria dovuta probabilmente alla poca chiarezza della domanda ma io sono molto d'accordo con la conclusione del ministro lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini comunque di sottoporsi ai controlli medici utili allo stile di vita e al mantenimento dello Stato di salute questo dovrebbe essere il compito il problema è che invece lo Stato in questo caso per ciò che riguarda i tesserati alle associazioni sportive dilettantistiche impone un qualsiasi cosa essi facciano nell'ambito della loro attività associativa un certificato che non è quello che poi è stato ulteriormente sfumato dell'attività ludico-motoria ma è quello di attività non agonistica che è un certificato importante che prevede anche lo svolgimento di un elettrocardiogramma prevede quindi una spesa abbastanza importante da parte dei cittadini come ripeto in quanto il cittadino è tesserato all'associazione sportiva dilettantistica non in relazione all'attività che poi effettivamente farà o fa questo è un punto che è rimasto in evaso un punto evidentemente come posso dire quasi incostituzionale direi diciamo perché rappresenta sullo stesso tipo di attività due obblighi in relazione ad un documento autorizzativo come è un certificato medico che ha valore legale questo sta provocando una tensione incredibile nell'associazionismo sportivo perché l'indeterminatezza e l'obbligo non danno chiarezza e quindi non si sa quando certificare quando non certificare e un dumping una come posso dire una concorrenza assolutamente sleale anche se a termini di legge legittima di tutti i soggetti non sportivi che fanno le stesse attività ma possono ai loro tra virgolette clienti offrire il vantaggio di non avere nessuna spesa di ingresso per la certificazione medica quindi è un meccanismo che va risolto e l'abbiamo posto in varie sedi ormai dall'inizio di questa legislatura c'è come ripeto un gruppo di lavoro del ministero della salute presente i medici sportivi del CONI presente le regioni presenti insomma tutti gli attori al tavolo ma che non riesce a trovare una quadra quindi l'impegno diciamo che fino a ora non essendoci un ministero dello sport non c'è stata questa capacità del governo di affrontare anche dal punto di vista dello sport questa questione l'auspicio è che anche sulla base di quello che il ministro risponde oggi ci sia un impegno diretto del ministero su questo tema grazie onorevole fossati e chiudiamo così il question time con il ministro Lotti che ringraziamo per la sua presenza e noi ci rivediamo poi in commissione dopo la seduta antimeridiana dell'assemblea dell'assemblea grazie grazie a tutti Grazie a tutti